Una mostra molto grande, articolata, profonda per raccontare il movimento dei pre-Raffaelliti in relazione alla grande arte italiana che lo ha ispirato. I musei di San Domenico a Forlì hanno inaugurato l'esposizione Pre-Raffaelliti e il Rinascimento Moderno, un viaggio denso tra il 400 e il primo 900 che tocca corde estetiche ma anche psicologiche e sentimentali e accosta capolavori italiani alle riletture di Dante Gabriele Rossetti o di John Everett Millet. Gianfranco Brunelli è il direttore della mostra. È un confronto fra due rinascimenti, un confronto per differenza, per dialogo, per ricreazione di una nuova interpretazione che i pre-Raffaelliti con il loro movimento che si è sviluppato nell'arco di tre generazioni hanno ridato vita al rinascimento italiano in una nuova chiave, in una nuova interpretazione. hanno portato nel 900 artisti del 400 italiano come Botticelli o Piero della Francesca. L'esito è affascinante e può dare una forma diversa al nostro modo di pensare l'arte più vicina a noi ma anche di riconsiderare il potenziale moderno del rinascimento italiano, riletto da una prospettiva che è omogenea e cerca di essere affine ma non può non fare i conti con i secoli che sono passati. In questo confronto si gioca la scommessa della mostra e anche l'esperienza dei visitatori che attraverseranno uno spazio espositivo molto ampio e articolato, carico di diversità e di suggestioni, con tante possibili letture. Questa mostra, aggiunto Peter Trippi, co-curatore dell'esposizione, racconta una storia d'amore tra l'Italia e la Gran Bretagna che parte dal fatto che c'è sempre stata una simpatia dei britannici per l'Italia. Si è rivelata nel periodo della letteratura classica ma negli anni 40 dell'Ottocento tutto è cambiato. Si è iniziato a guardare il primo rinascimento e a imparare da quel periodo a livello visivo ma anche emotivo. Credo che sia qualcosa di molto potente perché riguarda le persone non solo opere visuali e parole. Da Fiorenza al Veneto, da Michelangelo all'architettura gotica, le fonti, per così dire, a cui per Raffaellite hanno attinto sono numerose e la mostra le documenta, così come documenta la presenza femminile nel movimento, le diverse anime e la costante tensione che lo hanno caratterizzato in profondità.